Siamo al Festival di Internazionale e siamo qui con Loretta Napoleoni. Vorrei riprendere il tema che avevamo affrontato nell'intervista di giugno, quindi riallacciarci un attimo alla crisi che stiamo vivendo e capire di cosa non si è parlato sull'avanzamento della crisi in questo periodo di stasi estiva. È passato un G8, è passato un G20, cosa è successo? Non è che sia successo moltissimo, c'è stato il G8 dove si è rimandata la decisione di una regolazione del sistema finanziario al G20, c'è stato il G20 dove non si sono presi accordi fondamentali per la ristrutturazione del sistema. Si è detto che bisognava assolutamente limitare i bonus di produzione, però non si è detto come questi bonus di produzione verranno limitati. Si è anche detto che bisogna perseguire nella lotta contro i paradisi fiscali, però non sappiamo bene come, perché non chiudiamo questi paradisi fiscali. Quindi è rimasto un po' tutto sospeso e la realtà è che il mercato finanziario è ripreso a crisi e quindi l'urgenza di nuove legislazioni diventa sempre minore. E questo è molto pericoloso. Volevo domandarle, praticamente, le economie criminali di cui lei ha trattato spesso, anche per quelle che riguardano il contesto italiano dell'Andrangheta, sembra che c'è tra le poche organizzazioni di aver capito come guadagnare in questo mondo globalizzato. Cosa giocano, che ruolo giocano nella crisi e che benefici ne stanno ottenendo? Ma, guardi, tutta l'economia criminale in realtà ci sta guadagnando molto da questa crisi, perché nei momenti di grande crisi economica manca la liquidità e i sistemi criminali sono sistemi che poggiano principalmente sul contante, quindi hanno sempre grosse liquidità a disposizione. Quindi il riciclaggio, per esempio, che avviene per il 95% in contanti, diventa importantissimo in un momento di crisi. Con questo riciclaggio, per esempio, si possono fare soldi in prestito a piccole e medie aziende che non riescono a sopravvivere, data appunto la crisi, e quindi hanno bisogno di iniezioni di liquidità. Ma trovare queste iniezioni di liquidità oggi come oggi sul mercato è molto difficile, proprio perché le banche sono estremamente reticenti a prestare soldi a società che si trovano in situazioni di profonda crisi, per paura che poi queste società vadano fallite. E purtroppo il fallimento delle società è all'ordine del giorno. E quindi subentra il network, la rete della liquidità, dell'illegalità, dove ritroviamo nuovamente il crimine organizzato. Tra le reti, lei qualche tempo fa ha scritto un articolo intitolato Il sogno di Billard, prendersi sotto un certo aspetto alla crisi e agli effetti che ci sono stati della crisi per l'economia americana e l'economia occidentale in generale. Ma la rete del terrorismo, che gioca anche essa qualche ruolo nella crisi, ne può trarre dei vantaggi o si tratta di un elemento estraneo, insomma? Ma io direi che la rete del terrorismo incide fino a un certo punto sulla rete del terrorismo, prima cosa perché la crisi è principalmente localizzata nei paesi occidentali, dove abbiamo delle forme di terrorismo endogene, tipo appunto i famosi gruppi locali, quindi i piccolissimi gruppi che si sono insieme, sono l'esempio dell'attacco contro la metropolitana di Londra, che hanno anche bisogno di pochissimi soldi, insomma quell'attacco è costato 12.000 sterline, quindi quasi nulla. Invece io penso che al di fuori dell'Occidente, quindi non so, faccio l'esempio della Guinea-Bissau, che è diventata un grosso porto di entrata e di uscita della cocaina. Allora io penso che fuori dall'Occidente la crisi può facilitare il reclutamento, per esempio, la possibilità di queste economie criminali di consolidarsi e espandersi all'interno appunto di paesi in via di sviluppo, che soffrono principalmente proprio a causa della crisi, dalla caduta, dell'esportazione, dalla recessione in generale. Che cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi, secondo te, in Italia e anche più in generale in Europa, diciamo nel contesto globale anche riferendosi a quello di cui avevamo parlato precedentemente, del forte ruolo della Cina? La Cina è la nuova sua presenza, cioè si tratta solamente di anni. Io penso che nei prossimi dieci anni sicuramente la Cina sorpasserà gli Stati Uniti in termini anche di crescita economica, di PIL. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare un nuovo modello, che è un modello di modernità diverso dal nostro. Però io non lo guarderei in negativo, cioè nel senso possiamo prendere da questo modello delle idee, possiamo prendere da questo modello alcuni elementi che forse potrebbero aiutarci a rimettere in carattata il nostro. Quindi guarderei alla Cina più come un elemento quasi ispirativo in alcuni aspetti che non come un nemico. Però questo significa scaricare anche una concezione che è una concezione che noi abbiamo creato e consolidato negli ultimi vent'anni dai fatti di Tiananmen. Secondo lei, molti parlano recentemente più di concentrarsi piuttosto che sui G8 e G20, alcuni guardano più con attenzione la conferenza che si tratta di Open Hagen sul clima. Volevo domandarle, che relazione c'è secondo lei e quanto potrà aumentare in futuro con i cambiamenti climatici? Che effetti ha avuto sull'economia globalizzata questi sconvolgimenti climatici in futuro? O se ne sta già avendo? Il problema del clima è un problema reale. Chiunque non lo prende in considerazione secondo me non capisce l'importanza dell'energia nel nostro futuro. Cioè infatti Cina, America, poi Germania e Spagna sono i più grossi paesi che investono nella ricerca dell'energia alternativa perché si sono resi conto che questa energia alternativa è necessaria per poter continuare a crescere. Quindi il problema che in realtà è anche legato al problema della crescita del modello economico perché se continuiamo ad usare gli idrocarburi nei prossimi 50 anni avremo il problema di non avere abbastanza idrocarburi per poter continuare a vivere così come abbiamo vissuto fino ad oggi. Quindi le due cose vanno insieme. La ringrazio molto. Grazie.